Mister, dopo la Roma, la Suorana Women affronta subito un altro esame molto molto difficile. Se abbiamo detto che con la Roma bastava anche un mezzo errore e qui ne basta un quarto, un decimo. Ci dica lei. No, non bisogna farne di errori perché andiamo a affrontare una squadra fortissima. Prima in classifica, giocatrici importanti, tutte nazionali, una signora squadra. Sappiamo la forza che hanno in casa loro e sarà una partita molto difficoltosa, difficile da commettere meno errori possibile, affrontata con carattere, affrontata senza paura e mettere in campo le nostre qualità più importanti. È importante cercare di presentarsi con un ordine tattico maggiore oppure c'è da forzare, provare qualcosa in più? Sicuramente affrontare la partita come abbiamo affrontato la Roma sotto lo filo tattico e poi sfruttare al meglio le nostre caratteristiche in attacco, velocità e ripartenza. Penso che con la testa con cui abbiamo affrontato una partita con la Roma secondo me possiamo fare una partita importante, come ripeto, senza commettere errori che poi come la Roma abbiamo pagato caro. Magari ha vissuto questa situazione anche da calciatore, affrontare una partita così comunque contro la Juventus è stimolante per un calciatore o per una calciatrice? Sicuramente, sicuramente non serve che ci sia discorsi durante la settimana, penso che queste partite di stimoli vengono da sé, vengono quando ti alleni senza tante chiacchiere, senza tante parole. Affrontare la Juve è sempre una gara fatta di grandi emozioni, di stimoli e penso che ogni ragazza lo sappia e sia cosciente di questa cosa. Al di là poi della sosta delle nazionali, qui chiudo, della settimana prossima, comunque sarà importante fare una buona prestazione anche per riprendere al meglio la preparazione per altre due o tre partite molto molto importanti dopo? Sì, noi cerchiamo di affrontare questa partita nel migliore dei modi, andare a Torino, giocarsi a partita a viso aperto, contro sicuramente, ripeto, una grande squadra, però giocarsela, non aver paura, rinchiudersi tutti in difesa e vedere come va. Non voglio questo. Poi ci sarà l'ultima sosta prima di Natale, che poi ci sarà il continuo del campionato fino a Natale, però pensiamo a domani concentrati al 100% su questa partita importante.